per chi cosa sta succedendo? no tranquilli signori buongiorno un amico mio modestamente che sta con una sua amica la sta sacomando la sta sacomando va le sta cambiando il carattere ti ho permesso eh Cetto Cetto Pino che c'è? che c'è? mi ha dato tanto in faccia l'amico tuo ma che si pensava quello là? io mi chiamo Vittorio Anastasio sono un femminiello cosa sei? sono un uomo io sono un gonamba Pino tagliala Pino questa mano non merita di vivere no 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 Cetto perché? Pino taglia taglia Pino sparaci sparaci ha toccato la cosa capisci? ha toccato sparaci tu Cetto Pino non merita il tuo token questa mano non merita di vivere ha toccato la ha toccato la Pino non merita di vivere non merita di vivere